Quello che diceva il venerabile Monsignor Tonino Bello, che la Puglia deve essere un'arca di alleanza più che un arco di guerra, di indifferenza o di sospetto. Pertanto le radici comuni di questa bellissima comunione che noi abbiamo alle spalle, noi le abbiamo come impegno, come scommessa da portare avanti e da impiantare sempre più, non solo nella nostra regione di Puglia ma in tutto il Mediterraneo, compresa anche la stessa nazione sorella della Francia, della Spagna, i Balcani eccetera. Io penso che le radici comuni della nostra vede, della nostra cristianità debbano spingere verso quest'alleanza tra i popoli del Mediterraneo. Sono tanti i tentativi che la Chiesa Pugliese sta facendo dopo l'accoglienza del Santo Padre, Papa Francesco, ormai da cinque anni a questa parte. Il Papa è venuto nel 2018 e sono diverse volte che ha raggiunto le sponte pugliesi. Io mi auguro che il pensiero teologico, la riflessione sul Magistero della Chiesa locale, universale, possa spingerci sempre più ad osare. Grazie. Grazie. Grazie.